Ai piedi del castello di Briano Frascato troviamo l'azienda agricola di Cinzia Morgavi. Quali intanto le produzioni in questo momento? Allora, in questo momento stiamo raccogliendo le pesche e le prugne, delle quali le stiamo già incestinando da portare al mercato della frutta di volpedo. E prossimamente, come potete vedere, alle mie spalle, raccoglieremo le gala, le mele. Che campagna è per qualità e quantità? Ma quest'anno devo dire che sinceramente noi siamo soddisfatti. Io sono soddisfatta dei miei raccolti perché la frutta è bella e soprattutto è buona. Spero che sarà così anche per le mele e soprattutto per l'uva che sta già iniziando a maturare in anticipo. Qual è la tua esperienza in agricoltura? Come hai cominciato questa attività? Allora, io ho cominciato questa attività come coadiuvante insieme a mio marito che è un'azienda. E da qualche anno ho aperto una mia azienda. Sono contenta di averlo fatto perché amo questo lavoro, amo lavorare in campagna all'aria aperta e comunque perché la campagna ti dà soddisfazione. Perché lavori tanto però quando poi hai il tuo raccolto e vedi che ho raccolto bello, sei contento e lo fai anche più volentieri pur facendo dei sacrifici. Dove si compra la vostra frutta? Guarda, la nostra frutta? Noi portiamo la frutta alla Volpedo Frutta perché siamo soci lì, mentre l'uva la portiamo alla Cantina Sociale di Tortona. Progetti aziendali per il futuro? Allora, io spero di ampliare la mia azienda, comunque sia di coltivare, ampliare comunque sia magari i fruttetti di mele o anche qualità nuove di pesche, visto che ho questa pesca oleoglohaven, altre qualità comunque che vengano un po' prima nel mese di giugno o le ultime di settembre. Grazie a tutti.